Ciao bambini, eccoci qua alla seconda parte di Una vita da rondine. Vi raccomando sempre, se avete il libro di seguire con me la storia e di disegnare le schede, e che in alternativa le schede possono essere scaricate dal sito del parco. Avevamo lasciato Stella che aveva finito di costruire il suo nido, quindi ripartiamo da qui con la storia. Il nido era appena terminato quando Stella sentì che ormai era pronta per depurre le uova. Si accomodò sul nido e di lì a poco scodellò il suo primo uovo, bianco a macchie brune, a cui ne seguirono altri quattro nel giro di qualche giorno. Le osservò soddisfatta, quell'anno di insetti ce n'erano in abbondanza, e il cibo per i suoi piccoli non sarebbe mancato. Con un po' di fortuna sarebbe riuscita a tirare i grandi tutti e cinque. Si sistemò sul nido in modo da coprire bene le uova e si armò di pazienza. Nelle due settimane successive non si sarebbe quasi mossa dalla sua casetta di fango, salvo qualche breve voletto per nutrirsi. Non poteva a certo lasciare affreddare le uova. Dopo una decina di giorni, Saetta era diventato impaziente. Ogni momento era lì al nido a chiedere. «Allora, nessuna novità ancora, ma siamo sicuri che sta andando tutto bene?» «Tranquillo», rispondeva Stella, «lo sai che ci vuole il suo tempo. Vedrai che tra qualche giorno si romperà il primo uovo. E allora ci sarà da lavorare sodo. Riposati intanto che puoi». Quattro giorni dopo, Stella sentì come un lieve tremore sotto il suo ventre. Si scostò su un lato e osservò le uova. Sì, non c'erano dubbi. Su una di queste si stava formando una piccola crepa. «Saetta, dove sei? Presto vieni!» Chiamò e sotto gli occhi degli emozionati genitori fece capolino tra i gusci rotti una piccola testa grigia e spelacchiata, con un becco enorme e gli occhi gonfi e chiusi. «Ah, non è bello?» sospirò Stella, come ogni madre che si rispetti. Saetta l'osservò attentamente. «Bello» non sembrava esattamente la parola più adatta a descriverlo, ma non lo disse a Stella. «In compenso, sembrava robusto e in buona salute, e tanto bastava. Lo chiameremo Codalunga. Se appreso dal suo papà, questo nome sarà certamente meritato», disse Saetta. Il piccolo aprì il becco, che così spalancato sembrava ancora più grande rispetto al resto del corpo. Saetta volò via a cercare gli insetti con cui calmare l'appetito di suo figlio, mentre Stella accoglieva il piccolo sotto l'ala per tenerlo al caldo con il suo corpo. Nei giorni successivi nacquero Ferna, Diagata, Diaspro e Piumetta. Durante le tre settimane successive Stella e Saetta non ebbero un attimo di riposo. Nutrire i cinque rondinotti in crescita non è un'impresa da poco e assorbe tutte le energie dei genitori. I rondinotti crescevano rapidamente e avevano ora un aspetto grazioso. S'omigliavano molto ai loro genitori, pur con colori più sbiaditi, e Stella si aspettava da un giorno all'altro che uscissero dal nido per il loro primo volo. E qua vedete la fotografia dei rondinotti nel nido con il becco spalancato, sembra proprio un tubo per infilarci il cibo. E qui c'è la mamma che è venuta a portarglielo. Tornando dal suo ultimo giro, con la bocca piena di insetti, ebbe però una terribile sorpresa. Il nido non c'era più, ma giaceva a terra, in pezzi, con accanto un lungo bastone. Dei rondinotti non c'era traccia. Vi ricordo che questa è una storia vera, quindi davvero è successo così. Ma interrompiamo un attimo la storia lasciando un pochino di suspense. E visto che abbiamo visto Stella covare le sue uova, parliamo di uova. Perché non sono solo le galline a fare le uova, ma tutti gli uccelli. Le uova ovviamente hanno una dimensione, una grandezza, che corrisponde a quella dell'uccellino che la deposta. Cioè un uccello grande deporrà un uovo più grande. Un uccello piccolo ovviamente deporrà un uovo piccolo. Ma anche i colori cambiano. Guardate queste quattro uova. Quindi hanno colori e grandezze diverse. Proviamo ad abbinare ogni uovo al suo proprietario. E guardiamo un po'. Il merlo dice, il mio uovo è azzurro a macchie, lungo quasi tre centimetri. L'avete individuato? Questo è facilissimo, è un uovo azzurro a macchie. La rondine invece dice, il mio uovo è più piccolino, vedete, due centimetri, è più piccolo di 2,9. Quindi è un po' più piccolino, bianco, a macchie brune. Avete trovato l'uovo di rondine? Eccolo qua. La civetta dice, il mio uovo è bianco, invece completamente bianco, lungo circa tre centimetri e mezzo. Quindi più grande di quello del merlo. Facile. L'avete visto? Eccolo qua. E infine, il germano reale, che è un anatra, quindi è bello grossino, dice, il mio uovo è lungo 5,7 centimetri, quasi 6 centimetri. Quindi quasi il doppio di quello della civetta. Il colore è variabile. In questo caso, vedete, è verdolino con dei riflessi. Si deve mimetizzare un po' nei bordi dello stagno. Quindi fuori hanno questa apparenza diversa, dentro invece le uova, se le aprite, sono un po' tutte uguali. Cioè hanno il bianco, che è l'albume, e hanno il rosso, che è il tuorelo, e servono per nutrire il piccolino che sta crescendo dentro. E il guscio fuori serve per proteggerlo, invece. Andiamo avanti con la storia. Perché avevamo lasciato Stella, stupita e sconfortata, di fronte alla distruzione del suo nido. Stella era agitatissima. Tornando al nido con la bocca piena di insetti per i suoi rondinotti, lo aveva trovato distrutto, con i pezzi sparpagliati per terra, ed i suoi piccoli non c'era traccia. Tornò a razzo verso il prato, dove aveva lasciato Saetta ancora in tinto nella caccia, e per poco non si schiantò contro di lui. Stella, cos'hai? Ma sei impazzita a volare in quel modo? Per poco non mi ammazzi. Saetta, presto vieni. È successo quel che avevo temuto fin dal principio, gridò Stella, scoppiando in lacrime, tanto da non riuscire più così a parlare. «Il nostro nido non c'è, non c'è più. I nostri piccoli sono scomparsi, forse uccisi». Saetta, senza fermarsi ad ascoltare una parola di più, si precipitò verso il nido, sperando in un improbabile brutto scherzo da parte di Stella. «Ma no, era tutto vero. Ecco lì pochi rimasugli di fango attaccati ancora al muro, e giù in terra tutto il resto. Ma i piccoli dov'erano?» Stella e Saetta, sconfortati e abbattuti, si fermarono sul lampioncino ad osservare in silenzio il disastro, quando, udirono una vocina esitante, provenire dal cortile interno. «Mamma, dove sei? Ho fame! Ho paura!» Stella, rianimata dalla speranza, entrò nel piccolo cortile e si guardò intorno. Subito vide coda lunga, pollaiato sul filo per stendere i panni, ancora tremante, però spavento preso. Lui era il primo nato, e quindi quello con le penne più sviluppate, il più pronto a volare. Qua vediamo un piccolo dirondine, un piccolo coda lunga, per adesso la coda è corta, perché è ancora un giovane, un giovane che è appena appena uscito dal nido, l'aria un po' spennacchiata, e i colori un pochino più spiaditi, vedete, rispetto a un adulto. Stella gli volò accanto, e mentre gli becchettava dolcemente il collo per confortarlo, ecco che sentì un'altra vocina, e un'altra ancora. Ferna, Agata e Diaspro, che siano nascosti in vari punti del cortile, vedendo la mamma, si decisero a venire fuori da loro nascondigli, e volarono accanto alla madre. Stella gli contò, Manca Piumetta, l'avete vista? No mamma, quando è venuto quel bambino cattivo, con il lungo bastone, a dare colpi al nostro nido per distruggerlo, noi quattro siamo riusciti a volare via. Quindi è stato un bambino, vi ricordo che questa è una storia vera, è stato un bambino con un bastone, a tirare giù il nido delle rondine, così per divertimento. Quindi noi quattro siamo riusciti a volare via, ma Piumetta era troppo piccola, ed è rimasta lì. Noi non potevamo fare niente per aiutarla, perdonaci mamma, siamo scappati e ci siamo nascosti qui nel cortile. Poi è uscito un uomo che si è messo a gridare e ha fatto scappare il bambino cattivo, ma ormai era troppo tardi. L'uomo si è chinato ad osservare i resti del nido per terra, era arrabbiato con quel bambino e sembrava voler bene a noi rondini, ma cosa poteva fare oramai? Poi è rientrato in casa e qui è tornato tutto tranquillo, Piumetta però non l'abbiamo più vista. Povera Piumetta, sospirò la mamma, ma la necessità di provvedere ai rondinotti sopravvissuti non le lasciò il tempo per disperarsi. Vuotò il contenuto del suo becco in quello di Agata e poi volò via per procurarsi altro cibo. E in questa foto vediamo proprio mamma rondine che dà il cibo a un suo piccolino. «Voi rimanete qua sul balcone, credo che sarete al sicuro. Non allontanatevi, mi raccomando!» gli ammonì dirigendosi verso il prato. Al suo ritorno l'aspettava una nuova sorpresa. Sul balcone si trovava soltanto Piumetta. Piumetta stava gridando. «Forza, Fifoni! Venite fuori! Dove vi siete cacciati? Non c'è mica pericolo!» Era successo questo. Da una porta del balcone era uscito l'uomo che amava le rondini portando in mano Piumetta e l'aveva posata sulla ringhiera dove poco prima stati stretti uno vicino all'altro si trovavano i suoi fratelli. Ma Coda Lunga, Ferna, Agata e Diaspro ancora spaventati dagli avvenimenti di poco prima erano svolazzati in diverse direzioni andando a nascondersi nei luoghi più bui. Ora, ad uno ad uno vennero fuori e si posarono di nuovo sulla ringhiera curiosi di sentire cos'era successo a Piumetta. Quando il bambino picchiava sul nido e si staccavano dei pezzi io ho cercato disperatamente di aggrapparmi a quello che restava poi però non ce l'ho più fatta e sono caduta giù non mi sono fatta tanto male, sai perché agitando le mie piccole ali sono riuscita a frenare un po' il volo. Il bambino stava chinandosi verso di me quando è uscito l'uomo ha cacciato via il bambino e mi ha raccolto. Io tremavo tutta di paura chissà ne che ne sarà di me pensavo. L'uomo mi ha portato in casa e mi ha sistemato in una scatola poi ha detto alla sua bambina che avrebbe telefonato a un guardaparco per sapere cosa doveva fare. Mi ha dato da bere con un contagocce e mi ha portato qui sulla renghiera dicendo che così sarei stata al riparo dai gatti e che la mia mamma mi avrebbe trovata facilmente. Che avventura! Meno male che tutto sommato era finita bene e che ci sono ancora persone che amano le rondini e che sono disposte ad aiutarle. Dopo qualche giorno videro l'uomo uscire con una scala e sistemarla vicino alla trave dove si trovavano i resti del nido distrutto. Lo sentirono fare un gran fracasso per una decina di minuti poi lo videro rimettersi la scala in spalla e rientrare in casa. Le rondini non riuscirono a resistere alla curiosità e andarono subito a dare un'occhiata. Guarda Saetta! esclamò Stella tutta felice. Con questa protezione non dobbiamo più aver paura che qualche ragazzaccio ci distrugga il nido. L'uomo aveva sistemato una tavoletta di legno su cui le rondini avrebbero potuto agevolmente costruire il proprio nido rimanendo protette da azioni di vandalismo. Sì disse Saetta potremo allevare qui anche la nostra seconda nidiata e non saremo costretti a traslocare di nuovo. Meno male che quel signore amava davvero le rondini vero? E ha telefonato al parco per sapere che cosa doveva fare quel piccolino caduto per la terra. Tutto quindi è finito bene. Guardiamo un po' questa scheda il cibo delle rondini. Nella storia avete captato qualche volta abbiamo parlato di Stella o Saetta che mangiavano o che nutrivano i loro piccoli. Che cosa mangiano le rondini? Guardate un po' queste cose disegnate. Alcune cose vanno bene altre no. La rondine mangia principalmente anzi esclusivamente insetti. Quindi cerchiamo di verde gli insetti che vediamo in questa figura. Sono il cibo delle rondini. le zanzare le mosche le farfalle e gli afidi che vanno anche a raccogliere dalle piante. Invece in rosso quello che non mangiano assolutamente quindi non mangiano semi ci vorrebbe un becco molto più grosso e duro e non mangiano neanche le bacche. Eh sì perché ogni uccello ha un becco adatto a mangiare un determinato cibo e non è che può decidere di mangiare una cosa diversa. Quindi osserviamo questi quattro uccelli il gheppio il pettirosso il passero e la rondine. Hanno quattro becchi molto diversi tra loro. Curvo e tagliente il gheppio sottile il pettirosso robusto è corto il passero e un becco quasi insignificante alla rondine. Ognuno di questi becchi serve per mangiare un particolare cibo e ognuno di questi attrezzi ha un po' la funzione diciamo di uno dei quattro becchi. Quindi proviamo a collegare ogni becco all'oggetto che rappresenta la sua funzione. Quindi gli oggetti sono un retino per farfalle per catturare gli insetti al volo una pinzetta per raccogliere piccoli oggetti magari anche da posti da cui è difficile estrarli uno schiaccianoci che serve per spaccare semi e un trinciapolli osserviamo di nuovo i becchi il gheppio mangia altri animali quindi ne deve trinciare la carne il petirosso raccoglie insetti per terra o in mezzo anche a fessure il passero mangia semi e ha la necessità di spaccarli e la rondine cattura insetti al volo. Allora provate da soli a immaginare o se avete la scheda a unire proprio con una riga ogni becco all'oggetto e poi guardiamo insieme se avete fatto giusto oppure no. il gheppio quindi abbiamo detto che trincia la carne col suo becco e quindi il suo becco ha la stessa funzione di un trinciapolli il petirosso il petirosso ha un becco sottile proprio come una pinzetta adatto a raccogliere piccoli insetti tra l'erba tra il terreno il passero deve spaccare semi quindi al becco come uno spaccanoci molto robusto e forte e la rondine che cattura insetti al volo diciamo più che il suo becco è più la sua bocca che è molto larga ha la funzione un po' di un retino da farfalle le rondine purtroppo stanno scomparendo quali sono i motivi? beh uno non hanno non trovano più facilmente luoghi adatti per il nido abbiamo già detto che a loro piacciono tanto gli androni e com'è che vengono costruite adesso le case senza androni e quindi perdono questi posti per fare il loro nido per trovare tanti insetti hanno bisogno di un'agricoltura varia dove ci siano siepi prati coltivazioni di vario tipo e invece adesso è molto più conveniente fare un'agricoltura di questo tipo dove si seminano file 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 della stessa cosa magari di mais che è una pianta che non è tipica dell'Europa è stata importata dall'America e che non è adatta ad attirare gli insetti in più magari ci spargano anche gli insetticidi e quindi viene a mancare il cibo delle rondini infine uno dei posti dove si riposano durante la loro migrazione sono i canneti perché qua trovano tantissimi insetti da mangiare la migrazione è lunga è faticosa e purtroppo tanti canneti sono stati tolti le paludi sono sempre state considerate un po' dei luoghi malsani e per noi poco produttivi e quindi finché si è potuto adesso gli ultimi canneti per fortuna vengono protetti ma in tante situazioni il canneto magari è stato distrutto e riempito di terra per poter usare quel terreno in un'altra maniera e quindi vengono a mancare un po' diciamo gli autograil per le rondini quei posti dove si può riposare durante un lungo viaggio se avete la scheda potete fermare un attimino la lezione e completare la scheda con i vostri disegni di cosa ha bisogno una rondine e che cosa invece quali sono i posti invece dove assolutamente non può trovare né cibo né un posto per fare la casa abbiamo già detto che le coltivazioni tutte uguali uniforme estensive dove si coltiva per file 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 la stessa magari il mais o la stessa coltivazione si spargono gli insetticidi non è un posto adatto per trovare cibo e le città non sono un posto adatto sicuramente per costruire il loro nido proprio le grandi città mentre i paesini lo sono ancora per fortuna per costruire il nido vanno benissimo gli androni e i ripari sotto le stalle e invece per trovare cibo sono perfetti i pascoli con animali perché gli animali attirano moltissimi insetti i dintorni delle stalle e i luoghi sopra gli stagni questi sono luoghi perfetti per trovare cibo per le rondine e anche un'agricoltura più varia ma anche più rispettosa dell'ambiente dove vengono sparsi meno insetticidi abbiamo visto che la rondine deve fare un lungo viaggio alla fine dell'estate per andare in Africa in questo lungo viaggio incontra molti pericoli le nostre rondine partono dal parco Pineta che si trova più o meno qua durante questo viaggio quindi deve contare su alcuni posti dove si può riposare e deve cercare di evitare il più possibile i pericoli i posti dove si può riposare sono le orsi naturali dove la natura non è ancora stata distrutta e anche le isole sono un posto importante dove si può riposare quando attraversa il mare vedete qua c'è un attraversamento del mare qui c'è l'attraversamento del mare qui pure e quindi se ci sono delle isole insomma possono possono essere dei punti di sosta dove l'animale si può riposare prima di ripartire per il volo invece i punti pericolosi sono appunto il mare perché non si può posare da nessuna parte ma anche le montagne le montagne troppo alte non possono essere valicate e naturalmente in Africa il deserto del Sahara quindi che rotta è la migliore per le nostre rondini deve cercare di passare attraverso più punti veri di possibile ed evitare il più possibile punti rossi quindi una possibile rotta ad esempio è questa vedete lungo la costa fermandosi nelle aree dove ci sono canneti dove ci sono aree naturali insomma poi attraversa il mare qui dove c'è la Sicilia perché qui vedete è molto stretto qua c'è un'altra isoletta che aiuta e questa e può arrivare in Africa ma ci sono anche altri percorsi che può fare ad esempio può andare sulla costa dell'Atriatico quindi non questa costa quest'altra dell'Italia e attraversare il mare qui che è anche un punto abbastanza stretto e quindi non si corrono troppi pericoli in alternativa si può anche possono anche passare lungo la costa della Francia questa è l'Italia e quindi ci siamo in Francia fino ad arrivare a questo punto che si chiama lo stretto di Gibilterra dove l'Europa dove abitiamo noi e l'Africa sono abbastanza vicini c'è un tratto di mare abbastanza stretto e quindi qua possono attraversare senza pericolo e se avete voglia sentiamo l'ultima parte della storia che si intitola Arriva l'autunno Saetta e Stella come tutte le rondini erano genitori molto premurosi ancora per tre settimane nutrirono e accudirono i loro piccoli finché non furono capaci di procurarsi il cibo da soli poi ricostruirono il nido distrutto vi ricordate che era stato rotto dal bambino e Stella si codette finalmente il meritato riposo durante le due settimane di cova che seguirono a luglio le uova si schiusero e ne seguì l'indaffaratissimo periodo di allevamento dei piccoli l'uomo amico che in primavera le aveva aiutate spiegava sorridendo alla sua bambina guarda quanti insetti catturano grazie a loro quest'estate mosche e zanzare non ci daranno tanto fastidio pensa che ne mangiano circa 5.000 al giorno noi le abbiamo aiutate e loro aiutano noi a settembre sui fili della luce che costeggiavano il prato si potevano vedere i rondinotti fermarsi a riposare tra un volo e l'altro chiacchierando ininterrottamente come sanno fare soltanto loro era veramente un bello spettacolo si distinguevano facilmente dagli adulti per via delle penne della coda molto più corte la mamma si affrettava a dare le ultime istruzioni per il grande viaggio che si stava preparando il ritorno ai caldi luoghi di svernamento in Africa già i rondoni che avevano come loro animato i celestivi con volteggi e planate in cerca di insetti erano partiti i rondoni partono già ad agosto bambini ed era palpabile nell'aria la frenesia della partenza mi raccomando rimpinzatevi bene prima di partire cercate di stare uniti e la sera se potete fermatevi in un canneto a riposare offre un buon nascondiglio e gli insetti non mancheranno gli esortava Stella sì mamma rispondeva Neron di notti ma senza preoccuparsi troppo eppure pensate metà di loro non sarebbe sopravvissuta la migrazione la migrazione è veramente pericolosa per gli uccelli davanti a loro si prospettavano le fatiche di molti giorni di volo le difficoltà dell'attraversamento prima del mare mediterraneo poi del deserto del Sahara per non parlare poi dagli uccelli rapaci pronti a ghermiere gli uccellini stremati oppure le rondini che vengono catturate in Africa quando ormai gli altri pericoli sono superati per essere mangiate a pranzo dagli abitanti delle aree vicine ai dormitori di questi uccelli ma ora era una bellissima giornata calda e soleggiata di settembre quando per una rondine la vita è dulce e il cibo non manca e abbiamo finito spero che vi sia piaciuta questa storia e magari ci risentiamo per un'altra lezione e un'altra storia ciao bambini